Welcome to Hell Ok, eccoci qua super su quella mappettina simpatica di StarCraft E vediamo dai Così riusciremo a combinare con Con la razza dei non morti Non morti contro due dell'alleanza Allora fin fine parlando della storia di WoW è giusto Aspetta la mia vita per lo sciama Bisogna collocare le biostrata è vero E' una sorta di biostrata Apprezziamo una zigurata Grazie a tutti Ok dai Allora questo Ah mi è permesso di evocare delle monedità diciamo Quanti ne ho? We need both gold Vediamo che posso fare dei undead Leech King Black Citadel E andate Spellcaster Può essere trasformato in un zombie di gigante Del necromancer Cos'è il necromancer? Cos'è il necromancer? Aumentiamo il necromancer Aumentiamo il biostrata qua Aumentiamo il biostrata qua Ah li congela? Leech King Leech King sembra bellino dai Necromancer Half dead Cos'è il necromancer Cos'è? Orta Vodgi, vodgi Grazie Agra Grazie 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 Allora proviamo ad andare di qua Allora muovete a finire qua Sposta questo Perché non posso Ah ok Oh morto Oh finito Oh finito Semonile is complete Teoricamente dovrebbe essere un po' rascioso Allora Mo' arriva il mondo Allora First blood Vai vai Eh ma arriva il mondo Allora tiriamoci Dai che reggono Sì vabbè quanti sono Oh vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni tu Vieni qua Vieni qua Morto Morto Sì vieni qua Sbaglio ha risucchiato tutto il mano Goal gigante Eh no Troppa gente Troppa gente Troppa gente Ebbene qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Poi Pocai Sbaglio Ne vincerò uno piano piano Vabbè dai anche per questo video è tutto Proviamo proviamo